Asseminato il panico, invia Gianfilippo Ingrassia, zona Corso dei Mille, sparando dal balcone di casa propria con una pistola, poi risultata a salve. L'abitazione dell'uomo di 64 anni è stata circondata dagli agenti di polizia e dell'unità operativa di pronto intervento. Ai residenti è stato detto di non uscire da casa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, come hanno detto alcuni residenti e gli agenti, sarebbe andato in balcone a petto nudo e con indosso solo un paio di pantaloncini. Dopo i colpi esplosi, l'arma era stata appesa alle persiene di casa. Trascorsi lunghi minuti, il 64enne è uscito per strada dirigendosi verso gli agenti. Sembrava che volesse consegnarsi, invece ha iniziato ad invegliere e colpire poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti nella colluttazione e sono stati portati in ospedale. La prognosi per i due poliziotti è di 12 e 7 giorni. Alla fine il palermitano è stato bloccato e ammanettato e arrestato con le accuse di resistenza pubblico ufficiale, lesioni e minacce. Sequestrati anche un coltello da sub e l'arma, una pistola caricata a salve. Grazie. 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 Grazie.